Piena fiducia nell'operato del manager dell'ASL di Chieti Pasquale Flacco dopo la valanga di polemiche sollevate sia a seguito dell'ispezione dei carabinieri del NAS di Pescara nei reparti di medicina e geriatria dell'ospedale clinicizzato Santissima Annunziata che hanno trovato tra le altre cose barrelle e pazienti sistemati nei corridoi. L'assessore alla sanità Silvio Paolucci difende il lavoro fatto fino ad ora rimandando una valutazione più puntuale dell'operato del manager ad un anno e mezzo dal suo insediamento. Secondo Paolucci le criticità riscontrate nei reparti sono dovute a carenze strutturali dei corpi C ed F che sono anche a rischio sismico. Non è in discussione per un motivo semplice intanto perché la norma prevede un anno e mezzo le valutazioni e in secondo luogo perché si sta facendo tanto. Noi abbiamo costruito un gioiellino a Ortona sull'oncologico, abbiamo aperto il cardiochirurgico, Chieti oggi è il primo punto nascita della regione, si è investito sulla rete di emergenza e urgenza, sulle aree interne, sei postazioni in più, la lungodeggenza a basto e la rete Ictus a Lanciano, la rete del pronto soccorso. Insomma si stanno facendo tante riforme. Sulla distribuzione del farmaco a Teramo e a Chieti dicevo va revocata e è stata revocata quella direttiva. Oppure si trovano sull'area medica, non è capitato soltanto in questa occasione ma anche altre volte nel passato, qualche barella sui corridoi e dico così non va e dovete assolutamente correggere il tiro. Da qui poi schierare subito i titoli va via è una forzatura che infatti non sta in piedi. E' atavico il problema dei corpi C ed F, due alle, anzi due padiglioni che ammontano a 100-120 posti letto che sono stati quasi del tutto sgomberati e si stanno facendo gli ultimi sgomberi. Di qui anche la nostra fretta nell'aprire, ed è stato importante, il cardiochirurgico che è una nuova palazzina che può dare respiro a una situazione molto complicata. Le responsabilità evidentemente sono tutte passate perché è una struttura che è stata inaugurata circa 15 anni fa e che ha presentato questi caratteri strutturali che sono davvero vergognosi.